Allora chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla sanità e alla salute e adesso apriamo invece la pagina politica. Questa mattina, come di consueto, c'è stata la conferenza stampa del sindaco di Fano Stefano Guzzi che ha toccato vari temi. Partiamo dunque dalla situazione dei fondi anticrisi da destinare alle famiglie in difficoltà. Il sindaco ha voluto rispondere alle critiche mosse da due sigle sindacali in particolare, la CGL e la CISL, che avevano criticato l'amministrazione di scarsa sensibilità al problema delle famiglie in difficoltà. Il sindacato dice che l'amministrazione comunale di Fano non riesce a mettere a disposizione delle famiglie di Fano gli 80 mila euro che hanno provviste a bilancio. L'amministrazione comunale di Fano non può mettere a disposizione nulla, non gli 80 mila euro, per nulla perché sappiamo benissimo che tra patte di stabilità tagli improvvisi e repentini del governo un milione di euro che ci taglia il 20 di ottobre senza avercelo mai detto prima, è una cosa che è indescrivibile e gravissima. Conseguentemente noi abbiamo dovuto bloccare qualsiasi tipo di spesa, però con la firma che sarebbe stata auspicabile e responsabile o senza firma come pare che sia da parte del sindacato, noi in oggi 70 mila euro che abbiamo, 30 mila euro della fondazione Cassa di Risparmio, 40 mila euro che avevamo già a bilancio, noi li mettiamo a disposizione delle famiglie di Fano. Cioè da qui a fine anno i servizi sociali di Fano avranno a disposizione 70 mila euro per far fronte alle esigenze di tante famiglie che c'è lo sfrattato, c'è quello che ha la bolletta che non riesce a pagarla, c'è quello che non riesce a comprare i libri per mandare il figlio a scuola. Ecco, però invece di fare un bando come pensavamo di fare inizialmente, sarà a discrezione, tra virgolette, secondo il lavoro che stanno facendo, delle assistenti sociali, dei vari settori che affrontano quotidianamente molte famiglie che vengono lì a chiedere cose, a far presente situazioni di difficoltà, sarà a discrezione, come è sempre stato ovviamente, delle assistenti sociali per fare le varie istruttorie, diciamo così, chiamiamole così, famiglia per famiglia, vedere chi è il più bisognoso e poter erogare un po' di contributi. Quindi anche senza la firma del sindacato noi i soldi alla gente gli li diamo. Se il sindacato metteva la firma forse era meglio, anche perché in altri comuni che danno meno di Fano l'ha messa, c'è sempre questo solito modo di vedere Fano in maniera diversa, ma ci ho fatto l'abitudine dopo dieci anni, mi pare che le cose le abbiamo fatte uguali anche senza qualche firma messa dal sindacato qualche volta.